Musica Problemi di sicurezza per la scuola dell'infanzia di Desenzano, l'amministrazione comunale di Albino punta a realizzare un nuovo asilo. Quarta edizione a Villadogna per la mostra incroci un viaggio nella memoria e nella vita del paese e si pensa a una piattaforma digitale per conservare la cultura della comunità. Si alza il sipario sui teatrini di Francesco Musante, l'artista genovese conosciuto per aver dato vita alla sigla e alle scenografie di Zelig, espone a Clusone. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Innanzitutto la cronaca, un incidente stradale dalle conseguenze piuttosto gravi si è verificato nella notte a Clusone lungo la provinciale all'altezza del bivio per le fiorine e poco dopo la rotonda per l'ospedale di Piario. Intorno alle 2.15 una Citroen si è ribaltata per cause da accertare. A bordo un uomo di 44 anni, originario del Marocco e residente a Clusone. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del corpo volontari Presolana. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Clusone che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto. E ancora danni e disagi per il maltempo in Val Seriana. Ieri l'ennesimo albero caduto su una strada è successo a Casnigo lungo la provinciale della Val Gandino in serata. A causa delle forti piogge si è verificato un cedimento del terreno posto tra il torrente Romna e la strada. La pianta è così finita sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gazzaniga che hanno provveduto a rimuovere l'albero. Traffico in difficoltà per una ventina di minuti. E cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Albino punta a realizzare una nuova scuola dell'infanzia a Desenzano. L'attuale edificio presenta infatti problemi di sicurezza. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Albino, Fabio Terzi. Durante l'ultimo consiglio comunale di Albino si è parlato anche delle scuole dell'infanzia. Tutto è nato da un'interpellanza presentata dal gruppo di minoranza Progetto Civico che riguardava un po' i piani dell'amministrazione rispetto alle scuole dell'infanzia di Albino e Desenzano. Appunto, che intenzioni avete? Sì, noi qua a Albino abbiamo due plessi di scuole dell'infanzia. Uno ad Albino capoluogo e uno nella frazione di Desenzano. Entrambi presentano dei grossi problemi, ma è soprattutto il plesso di Desenzano che ci dà da pensare molto, perché ci sono problemi in ordine proprio alla sicurezza. Per cui sfumata l'ipotesi di realizzare un'unica scuola recuperando l'ex elementare di Desenzano, stiamo pensando di realizzare un nuovo plesso, ma solo per la scuola di Desenzano, solo in sostituzione della scuola materna di Desenzano. Avremo intenzioni di localizzare l'area dove sorgerà questo nuovo plesso di fronte alle attuali scuole medie di Desenzano come in Duno. Abbiamo già fatto due conti sommari, sia per quanto riguarda il quadro economico che anche per le superfici, vedere come si inserisce questo nuovo plesso nel contesto e sembra che il progetto possa avere le gambe per camminare. Tenendo presente quelli che sono gli standard attuali di una scuola materna calibrata su quattro sezioni, si parla di 600-700 metri quadrati. Gli spazi ci sono, teniamo presente che lì abbiamo un vincolo anche cimiteriale, ma non ci dovrebbero essere problemi. Per quanto invece attiene al quadro economico si parla di circa 800 mila euro, un milione. L'anno prossimo noi avremo queste risorse perché potremo applicare quasi 900 mila euro di avanzo di bilancio che invece su questo esercizio 2017 ci è stato impossibile utilizzare per la restituzione che avevamo degli spazi di spesa orizzontali di cui avevamo beneficiato un paio di anni fa e anche per il pagamento della pista ciclopedonale. Quindi questi due fatti, questi due elementi che ci facevano arrivare al limite del tetto di spesa ci hanno impedito di usare questo avanzo di bilancio che invece sarà completamente disponibile sull'esercizio 2018. Quindi questo sarà un autunno caldo, un autunno di grande lavoro perché porteremo chiaramente l'attenzione dei consiglieri di maggioranza e minoranza nelle opportuni sedi in commissione territorio congiunta a quella alla persona, il progetto di questa nuova scuola materna che deve essere comunque affinato e sviscerato nei dettagli. I tempi sono stretti, dobbiamo avere già in mente bene o male il quadro economico perché per la fine dell'anno dovremmo adottare il POP per il 2018 e anche il bilancio di previsione. L'amministrazione punta davvero a ovviare almeno il problema delle scuole materne di Desenzano. Un secondo tempo valuteremo anche le scuole materne di Albino capoluogo. Hanno dei problemi, delle criticità ma non sicuramente come quelle di Desenzano. Interventi sulle scuole anche a Villadogna dove sono iniziati i lavori per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio della primaria e presto inizieranno anche i lavori al palazzetto. Ne abbiamo parlato con la prima cittadina Angela Bellini. Lavori in corso alle scuole di Villadogna, che cosa si sta facendo? Finalmente ci siamo riusciti a mettere mano alla scuola primaria di Villadogna. Ci era già stato segnalato che comunque bisognava di interventi abbastanza sostanziali e grazie allo sblocco della parte dell'avanzo di amministrazione con il finire della scuola sono partiti finalmente i lavori. Di fatto sono la sostituzione di tutti i seramenti che erano faticenti, obsoleti e anche fuori norma perché logicamente la loro età l'avevano e poi l'efficientamento di tutto quello che era la parte vecchia delle nostre scuole elementari. L'ampliamento che c'è stato qualche anno fa era già comunque efficientato e grazie comunque a questo sblocco abbiamo potuto migliorare sicuramente l'efficientamento delle nostre scuole perché la direzione per la quale si deve andare è sicuramente anche quella del risparmio, oltre che a rimettere un po' a nuovo anche le pareti perché giustamente verrà ripiturata, verranno ristabiliti e anche i seramenti sono proprio adatti per i nostri ragazzi che vanno a scuola. Quanto spendete? Allora diciamo che lo sblocco è stato di 150.000 euro, grazie ai ribassi che vengono fatti comunque dovrebbe assestarsi circa sui 110-119.000 euro probabilmente comprese le spese tecniche. E finiranno? Sicuramente devono finire o comunque la scuola deve essere agibile per l'inizio dell'anno scolastico, effettivamente i lavori intervengono sulla parte esterna perché la parte interna sicuramente verrà fatto in un secondo step, stiamo appunto approvando un nuovo progetto per la messa a norma antisismico il tetto, quindi sarà il secondo step che facciamo sulle scuole perché ci teniamo a mettere in sicurezza, prima di tutto i nostri edifici in modo particolare le scuole. C'è anche in arrivo un intervento sul palazzetto. Anche il palazzetto abbiamo potuto beneficiare anche per quello dello sblocca scuole chiamato perché essendo anche palestra scolastica abbiamo potuto comunque anche lì progettare un intervento per poter mettere in sicurezza il tetto, intervenire perché da anni purtroppo c'erano delle infiltrazioni d'acqua e come tutti sanno le infiltrazioni d'acqua purtroppo non si sa mai da dove vengono e dove vanno a finire. Sicuramente viene messo anche all'esterno, viene fatto il vespaio che non è mai stato fatto e si cercherà di rimettere anche quello in sesto. Lavori che partono? Sicuramente quelli che sono tutti gli interventi esterni vogliamo farli comunque prima di ottobre perché poi il nostro palazzetto è molto frequentato dalle associazioni sportive e di conseguenza vogliamo che possano iniziare le loro attività nella stagione autunnale così come da programma. E a Villa Donia negli spazi dell'oratorio ieri sera l'inaugurazione della mostra Incroci, iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Video Art. È stata anche l'occasione per presentare il progetto Video Smart Village, una piattaforma digitale dove salvare la vita e la memoria del paese e delle comunità vicine. Siamo alla quarta edizione di Incroci, questo evento tra arte, fotografia, storia, Villa Donia che vuole raccontare Villa Donia e i suoi dintorni. Quest'anno in modo particolare che taglio avete scelto? Allora visto l'interesse sempre di portare al coinvolgimento della società dei cittadini, quest'anno il tema è stato proprio il nostro paese, quindi il nostro territorio, la nostra storia, quindi aperto a tutti. Abbiamo fatto una chiamata il mese scorso richiedendo dei souvenir da Villa Donia, l'idea era un po' questa per richiamare l'oggetto storico, la cosa particolare, il pensiero, la poesia, qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto legato alla memoria di Villa Donia è diventato quindi un pretesto per includersi in questa mostra dove appunto la storia, quindi i documenti storici, i libri, i racconti si uniscono ai dipinti, alle pitture, alle fotografie storiche del nostro paese e al contesto naturalistico, infatti vedete qui alle mie spalle abbiamo proprio degli esemplari di fauna e flora del nostro territorio e quindi una mostra racconta il paesaggio, il contesto civile, naturalistico del nostro territorio, quindi Villa Donia non solo, quindi sempre con le nostre parrocchie, quindi la comunità di Villa, di Ogna, di Nasolino e di Ontersenda Alta, quindi arriviamo fino alla comunità di Valzurio. Che cosa c'è in particolare in questa mostra? Facciamo un breve excursus. Sì, allora, in particolare c'è un elemento basilare che è stato in connubio con l'idea di coinvolgere le persone, un po' la scintilla che ha dato proprio il via a questa esposizione, che come sottotitolo ha proprio il nominativo di Villa Donia Smart Village. Noi pensiamo alla Smart City, a quanto è bello nelle città avere delle facilitazioni per tante cose e noi abbiamo pensato che uno Smart Village come Villa Donia, con un gruppo come il nostro che adesso è associazione, quindi Video Art che diventa associazione, quindi abbiamo pensato che avremmo potuto a un certo punto collaborare alla raccolta di tutto questo materiale che noi negli anni abbiamo contribuito a scoprire e a mostrare e quindi l'intento di archiviare tutti questi documenti in un server che noi stiamo realizzando su un portale online diventa un po' l'aspetto di base di questa mostra. Ricordiamo che la mostra è aperta dall'11, quindi da oggi che è venerdì 11 e l'apertura resterà fino alle 23 comunque tutti i giorni, ma la chiusura della mostra sarà il 20 agosto, quindi rimandato alla settimana successiva. Siamo comunque nel contesto dell'oratorio di Villa Donia, al primo piano, saremo molto visibili perché abbiamo aumentato anche le luci quest'anno e la visibilità della mostra anche, addirittura da senda probabilmente qualche opera si potrà vedere se sbirciamo. E nell'ambito della mostra in croci è stata organizzata anche la prima cena dei Bonicelli e dei loro discendenti simpatica iniziativa dedicata a tutti coloro che portano un cognome abbastanza diffuso a Villa Donia. L'appuntamento è per giovedì 17 agosto alle 19.30 all'oratorio di Villa Donia. E per noi adesso è il momento di una pausa ma ci rivediamo tra poco, parleremo di arte con la mostra di Francesco Musante a Clusone e poi anche di calcio e vedremo come l'Albino Gandino si sta preparando a un altro campionato di eccellenza. Riprendiamo con il nostro telegiornale opere d'arte che mettono di buon umore quelle di Francesco Musante. L'artista genovese torna ad esporre a Clusone negli spazi di Franca Pezzoli, arte contemporanea. Buonasera, Franca Pezzoli, arte contemporanea, si è aperta oggi la mostra del maestro Francesco Musante 12 agosto, durerà fino al 12 settembre, sono opere particolarissime, molto allegre e Francesco non è la prima volta che espone a Clusone, perciò tanti di voi lo conosceranno non solo per l'esposizione a Clusone ma per le sue esposizioni a livello internazionale. Ci presenta poi un'anteprima, questi teatrini stupendi, dove ci racconterà lui perché sono nati e come sono nati. Lascio la parola a Francesco, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, i teatrini Franca sono nati per un'esigenza un po' tridimensionale, cioè di fare dei dipinti che vadano oltre, non voglio dire come Fontana perché è un altro discorso, lo spazialismo, però di fare delle tridimensionalità nell'arte. Quindi ho fatto questi teatrini qua con delle immagini serigrafiche, però sono di pezzi unici e mi sono divertito molto a farli e vedo che piacciono, quindi sono contento e spero che piacero anche al pubblico di Clusone. A te sono piaciuti, quindi... Poi ci sono dei dipinti, quelli diciamo classici un po' rinnovati come tema, anche se sembrano sempre gli stessi, e poi c'è le grafiche, le serigrafie. Francesco, il desiderio di fare questi teatrini so che è arrivato perché tu hai partecipato alle scenografie, cioè hai proprio creato le scenografie al Teatro Carlo Felice di Genova, giusto, per la Bohème. E da qui mi hai detto che ti si è aperto un mondo, una voglia di fare qualcosa di molto scenografico. Prego, racconta tu la tua... Ma io non avevo mai fatto esperienze di scenografia, anche perché non sono scenografo. Mi hanno chiamato al Teatro Carlo Felice di Genova per fare la Bohème, ho fatto le scene e i costumi e in effetti vedere prendere vita a dei dipinti è stata un'esperienza che mi ha un po' scombussolato, nel senso buono. Quindi vedere poi, di poter rifare anche con i miei quadri questi teatrini ma mi ha dato un'ispirazione in più, diciamo. Perché quando hai fatto le scenografie di Zellig non erano così allora, era diverso? Allora, Zellig abbiamo usato delle immagini che però scorrevano su dei teli di metallo che avevano loro, mentre invece la Bohème è stata proprio nata con scene fatte da me, poi io ho disegnato e poi chiaramente l'hanno fatte dai tecnici. Io sono contento di essere ospite tuo, deve essere la settima, ottava volta forse, è un mero che espongo più a Clusone. E quindi ti ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti, Clusone, Bergamo, la televisione, tutto e grazie per l'opportunità che mi date. Parliamo di calcio, l'Albino Gandino si sta preparando a un altro campionato di eccellenza, vediamo come stanno andando i primi allenamenti. Una delle squadre bergamasche della Val Seriana che ha iniziato la preparazione da quattro giorni è l'Albino Gandino e parliamo con il suo allenatore Roberto Radici. Allora come sta andando questi primi giorni di preparazione? Bene, nel senso che siamo partiti bene, i ragazzi ci sono quasi tutti, ne mancano due, però il lavoro sta andando bene. Bene vuol dire che intanto non ci sono infortuni, quindi facciamo gli scongiuri che le cose vanno avanti così. Ecco, diciamo la squadra ha cambiato qualche elemento, soprattutto in attacco, non ci sono più giocatori come Borlini e l'altro attaccante Franchini, però è arrivato un attaccante di esperienza forte come Spampati, poi qualcosa si è mosso anche in difesa e a centrocampo, dunque tutto da valutare in questi primi giorni. Sì, infatti abbiamo cambiato molto, però credo e spero che comunque non ci siano differenze rispetto all'anno scorso. Gli obiettivi della nostra società per questo campionato sono ovviamente quello di innanzitutto rimanere in categoria, però rimanerci giocando un bel calcio propositivo, anche con intensità e vorremmo ripetere il campionato dell'anno scorso. Ripetersi vuol dire fare qualcosa in più rispetto all'anno precedente, comunque perché è sempre difficile. L'anno scorso c'erano gli entusiasmi dell'essere saliti dalla promozione, le novità che mettono comunque, gli avversari ti conoscono poco e quindi questo non c'è più, quindi noi ci dobbiamo preparare meglio rispetto all'anno scorso. Uno dei volti nuovi, un giocatore molto importante, il Bolber di razza, Fabio Spampati, è arrivato qui a Labino Gandino per dare, con la sua esperienza, per poter fare ancora un buon campionato. Ma sì, sono uno dei nuovi, diciamo che l'ossatura della squadra è rimasta, pressoché la base è rimasta intatta. Cerchiamo di fare un campionato importante, diciamo che già confermare quello che questa squadra è riuscita a fare l'anno scorso, sarebbe una buona base di partenza, poi se riusciamo anche a migliorare è tanto meglio. Ecco, diciamo, dal tuo lato è un po' un ritorno, no? Dato che tu avevi già giocato poi questa squadra. Sì, diciamo un po' di anni fa ero già stato sia Gandino, torno con piacere, anche perché sono vicino a casa, diciamo, però speriamo di fare una buona stagione, quella è la cosa più importante. Con il direttore generale Roberto Bogazzi, allora, una sua impressione su questi primi quattro giorni di allenamento della Vino Gandino e un'impressione anche sulla campagna acquisti di questa squadra. Buonasera a tutti prima di tutto, buona annata sportiva. Allora, noi ci siamo riuniti il 7, quest'anno abbiamo ritardato rispetto un po' a quelli che sono i nostri canoni usuali, perché il campionato comincia comunque una settimana di ritardo e abbiamo voluto cercare di avere gli atleti tutti a disposizione, cosa che gli anni scorsi, poi cominciando prima, non sempre riusciamo ad avere. Le impressioni sono ottime, i ragazzi sono carichi, tutti credono nel progetto. Abbiamo fatto parecchi cambiamenti, alcuni voluti, alcuni imposti da regole di mercato che io non condivido, per cui la società ha voluto tenere questa linea. Di conseguenza, noi oggi abbiamo un organico che riteniamo congruo al progetto che vogliamo fare, che è una salvezza tranquilla, senza grossi problemi, e poi vedere se ci sarà la possibilità di fare qualcosa di diverso, lo valuteremo al momento opportuno. E ora l'appuntamento del sabato con le previsioni del tempo, quindi la parola al nostro esperto Matteo Lacavalla. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Davvero una bella aria fresca ha raggiunto le nostre Alpi e Prealpi. Infatti dell'aria piuttosto fredda è proprio arrivata dai Balcani, ha circondato le Alpi e ha portato questa generale rinfrescata. Pensate che nella giornata di ieri, venerdì, proprio nella serata, sono arrivate anche delle spruzzate di neve, oltre i 2.700-3.000 metri di altitudine. Quindi pensate che grande differenza rispetto alle settimane precedenti, quando invece era l'anticiclone africano a dominare tutto il Mediterraneo, portando quelle vampate, quelle ondate di caldo che tanto hanno dato fastidio al nostro territorio. D'altra parte però, quest'aria fredda ha portato anche forte instabilità atmosferica e dei forti temporali accompagnate da delle grandinate record, soprattutto nella zona del Lago di Garda, dove veramente sono caduti delle grandine di grande dimensione. Cosa accadrà nella giornata di domenica? Vedete, ho indicato un generale miglioramento del tempo. Già nella giornata di oggi abbiamo avuto ampie schiarite, però domenica si affermeranno sempre di più con un anticiclone delle azzorre che via via si andrà a espandere sul nostro territorio portando stabilità atmosferica. Infatti se passiamo alla diapositiva precedente vedremo proprio il dominio dell'anticiclone delle azzorre che si espanderà via via su gran parte del nostro territorio a partire dalla settimana prossima. L'anticiclone delle azzorre è sinonimo di un clima gradevole, piacevole sul nostro territorio, però con anche delle note di instabilità, specie nelle ore centrali a giornata, quindi non escludiamo poi nelle ore centrali a giornata, specie sulle nostre prealpi o robie, qualche locale acquazione ma nulla di rilevante perché poi come classico del nostro territorio il tempo migliora in serata e la mattina torna a splendere il sole. Quindi sarà un po' una settimana con questa variabilità, con però una tendenza a un graduale miglioramento del tempo e ripeto temperature decisamente piacevoli. Ma andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani, domenica che vede un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio aerobico, sia nella parte più settentrionale, così come sulla Valle Camonica, e sia nella zona della medio-bassa Valle Seriana e Lago di Seo. Abbiamo indicato temperature abbastanza fresche, al primo mattino quest'aria fredda si farà sentire temperature intorno ai 10-12 gradi, anche a Clusone, uno zero termico nelle ore centrali a giornata, intorno ai 3.700 metri di altitudine. Come consuetudine sui nostri territori montuosi, nelle ore centrali a giornata abbiamo indicato qualche locale a nuvolamento, ma nella giornata di domenica non sono previste alcune piogge. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana, che vede una giornata lunedì con un segno della variabilità, vorrà dire nubi alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative, farà ancora abbastanza fresco, vedete come le massime a Clusone non andranno oltre i 23 gradi e le minime si attesteranno intorno ai 16 gradi, con uno zero termico intorno ai 3.800 metri di altitudine. Martedì e mercoledì abbiamo indicato poche nubi sul nostro territorio, abbiamo detto che sarà il dominio dell'anticiclone delle Azzorre, che garantirà stabilità atmosferica sulle nostre montagne, quindi delle belle giornate da trascorrere l'aria aperta, a fare escursioni sia nella zona più montuosa sia nelle nostre zone dei laghi, quindi del lago di Iseo. Nella giornata di giovedì abbiamo indicato un po' di variabilità, arriva qualche nuvole, qualche acquazzone nel corso della giornata sul nostro territorio, perché l'anticiclone tende un pochino a cedere, a collassare, per cui avremo qualche rientro di aria più fresca da est, che tenderà a vivacizzare il tempo sul nostro territorio. Vedete come però le temperature in settimana tenderanno di nuovo a riportarsi su valore estivo, intorno ai 28 gradi di massima acclusione, quindi diciamo un caldo moderato ma non eccessivo. Venerdì ho indicato un possibile peggioramento del tempo, potrebbe appunto arrivare una perturbazione che porterà qualche acquazzone, qualche locale temporale fra venerdì e sabato, in attesa poi di un deciso miglioramento a partire da domenica. Ma per gli aggiornamenti meteo per il prossimo fine settimana, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Per noi adesso un breve break, poi ci rivediamo per la parte finale. Grazie a tutti. Siamo in conclusione del nostro Tg, andiamo a vedere i programmi in onda su Antenna 2, sul nostro canale principale questa sera alle 20.30 la rubrica Il Rotocalco, alle 21.00 Mondo Crociera, alle 21.45 Manenobiscum, alle 22.10 Salus TV, alle 22.25 Biberon, alle 22.30 la seconda edizione del Tg, alle 23.15 il programma musicale Colpa D'Alfredo. Il canale News 21.00, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.30 la rubrica Pianeta Salute. E adesso l'Almanacco, domani e domenica 13 agosto, il sole sorge alle 6.13 e tramonta alle 20.37, la luna è all'ultimo quarto, sorge alle 23.36 e tramonta alle 13.29 di lunedì. La Chiesa ricorda Sant'Ippolito. E per noi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata e buona domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.